ehi la ciurma benvenuti in questo nuovissimo episodio di magic episodio finale di questo titolo l'audio che state ascoltando questa prima parte è un audio che ho registrato in un secondo momento perché ho dovuto cioè ho registrato tantissimi episodi di questo duello finale ma nessuno era andato bene fino a che questo è andato bene ma naturalmente non avevo registrato l'audio perché non potevo immaginare che ce l'avrei fatta a questo giro sto usando un mazzo bianco bianco cioè totalmente bianco con 20 carte di mana e 40 tra creatori incantesimi o incentrato questo mazzo principalmente su carte con guadagno vita tipo long missionary tipo il risultato al centro mi pare sì che rimette la vita iniziale come quei monaci rinoceronti di cui non mi ricordo il nome adesso che potete vedere nella mia mano attuale e delle carte esilio come quella che ho pescato appena adesso che appunto elimina tutti le creature dell'avversario l'altro che invece avevamo già visto che esiliava una carta quello non mi ricordo più come schiava comunque tentando di uno impedirgli l'utilizzo di carte molto forti tipo quella che utilizza 66 che evoca delle altre creature non mi ricordo se in questa partita la giocata ma ha una creatura verde 66 che ogni volta che gioca una una terra evoca una creatura 33 al suo al suo fianco una bestia 33 e garro con questo mazzo ha davvero tantissime carte per giocare delle terre e quindi quella è una carta davvero stroppi in più ha molte carte molto forti e quindi bisogna cercare di limitarli nell'utilizzo e portarci in una situazione di vantaggio in più ho inserito anche delle carte con volo come la mia tattica ecco potete vedere qua una bestia 5 5 che riesce già a giocare al quarto turno credo che sia io non riuscivo a trovare delle terre nonostante un terzo delle mie carte fossero terra e la partita è stata davvero molto dibattuta comunque vi lascio a questa a questa visione commenterò pian piano quello che sta accadendo allora adesso ho giocato queste due carte appunto che sono carte dal poco dal basso costo di mana perché non sto pescando terre non riesco a trovare terre lui ha già giocato due carte molto forti tra cui questo 5 5 che ci creeranno pochi problemi per fortuna noi con il lone missionari siamo riusciti a portarci con quattro punti in vantaggio e quindi siamo in una situazione comunque abbastanza favorevole per noi anche se lui ha questo un incantesimo che gioca praticamente sempre che sia all'inizio del turno a la creatura con la forza maggiore di tutte insomma pesca una carta a ogni turno e ha utilizzato un altro incantesimo che distrugge un permanente e dalla mano di quel giocatore un una bestia 3 3 lui ha deciso di distruggersi quello incantesimo per avere la carta 3 3 insomma ho giocato un altro long missionari che mi dà altri quattro punti vita per fortuna perché comunque continuiamo a restare in una situazione di svantaggio adesso lui attacca con tutte e tre le carte noi cerchiamo di bloccare il più possibile inizialmente pensavo di bloccare solo quello che appunto sapevo di poter uccidere con una sola carta facendo un cambio 11 adesso invece scelgo di perdere tutte le carte per però togliergliene due e lasciargli soltanto lo low hang beast sperando poi di riuscire a pescare qualche carta che mi permetta di giocare qualcosa di più perché creature dal basso punto di punteggio di mana non ne ho più lui gioca anche un'altra creatura un orso due due anche quelli ne utilizza parecchi e come potete vedere di nuovo l'incantesimo quello che si è distrutto appena il turno scorso che è sempre quello del o per fortuna arriva di nuovo una carta terra altrimenti saremmo stati molto nei guai come potete vedere adesso giocherò questo roxfathmander che appunto anche lui è legato al recupero di vita perché come potete vedere ha lifelink e in per di più ha un'abilità che fa guadagnare il doppio della vita ogni volta che si guadagna vita quindi e credo sia anche combinato col suo lifelink quindi quando lui prende lifelink cioè prende e infligge un danno noi guadagniamo due due punti vita inoltre è un buonissimo tank perché come essendo difensivo ha parecchi punti di difesa e nonostante non possa uccidere l'attaccante può fermarne la maggior parte e può darci dei punti vita in cambi insomma adesso giochia giocheremo questo phantom general che di cui non avevo capito bene l'utilizzo prima di giocarlo perché quel creature tokens non avevo capito bene che cosa intendesse infatti adesso credo di poter dare un più uno più uno a quel rinoceronte la invece come scoprirò più tardi questa questa abilità non è quello che avevo inteso io credevo che creature tokens significasse semplicemente creatura invece non è così perché appunto adesso si svelerà che cosa è il significato vero diciamo di quel di quella carta e io infatti l'avevo inserita nel mazzo credendo di poter potenziare più uno più uno una creatura mia scelta invece così non è stato allora lui continua attaccare noi siamo in una situazione di enorme svantaggio ora come ora in più gioca un garax companion che a travolgere che è un 32 e non è non siamo per niente messi bene per fortuna troviamo un'altra pianura e non mi ricordo che giochiamo questo turno a credo che giocheremo ero indeciso se giocare rox faith manager oppure triplicate spirits adesso infatti il gioco mi consiglia di giocare triplicate spirits io sono molto titubante anche perché dovrei utilizzare convoc per giocarlo e quindi tapparmi una carta creatura infatti all'inizio dico no poi però dico no ma forse effettivamente tre spiriti possono comunque parare tre tre attacchi sacrificandosi però possono comunque possono comunque parlare scelgo di tappare quello che comunque almeno difensivo e adesso scopro che il più uno più uno to creator tokens vuol dire a questi questi esseri qua insomma che vengono evocati da altre carte che non sono delle creature di sé infatti tutti questi spettri prendono un più uno più uno e quindi questa è una buona combo diciamo che ho fatto involontariamente il gioco lo sapevo probabilmente per quello mi ha consigliato la carta ma io non avevo capito l'utilizzo di quella carta adesso per fortuna grazie a questa cosa riusciamo a bloccare due delle sue carte anzi no ne blocchiamo tre e due addirittura uccidergliele cosa che davvero non mi sarei mai aspettato dai da questi spiriti non sapendo l'utilizzo vero di quella carta e in questo ammetto di essere stato molto un abbo questa in questa partita ho fatto davvero tanti errori e lo spiegherò anche alla fine ho avuto davvero tanta fortuna per riuscire a farcela ma queste spiegazioni ve le darò poi in seguito sono indeciso se utilizzare questo però c'è solo una carta nemica quindi mi pare che giocherò l'assault griffin per poterlo attaccare e non essere fermato vediamo che cosa sceglierò sì infatti scelgo l'assault griffin che con volare appunto mi permette di attaccarlo e e non essere bloccato perché avendo delle creature così forti spesso l'unico modo per riuscire a passare questa sua forte difesa quello di utilizzare volo insomma per non perdere delle carte lui sta giocando davvero tantissime terre come potete vedere ha già 10 terre verdi e una nera ha un mazzo verde nero ma è molto più incentrato sul verde che sul nero vedete questa è un'altra carta che gli fa pescare delle delle terre infatti ne gioca uno subito e una pesca in mano per fortuna quello che ci va bene è che lui ha poche carte in mano allora bainslayer angel questo di sicuro ci è molto utile perché ha flying a first strike e volare e non mi ricordo più che cos'altro e quindi ci porta in una buona situazione in più un 5 5 che è davvero molto tosto perché può comunque bloccare e uccidere anche la sua creatura più forte se per caso avessi un modo per potenziarlo sarebbe in assoluto la creatura più forte del campo ora come ora sarebbe uno scambio uno a uno diciamo con l'altro ah no perché ha first strike quindi potrebbe ucciderlo prima però gioca un altro all wing beast che assolutamente è una cosa a noi molto sfavorevole gioca anche questo perché appunto lui pesca carte utilizzando quell'incantesimo la teniamo fuori di ferocità così pesca due carte per la creatura più forte a questo punto non so che cosa faccio se gioco il griffon se faccio il planar cleansing forse farò il planar cleansing ah no gioco un rox faith commander non mi ricordo più continuiamo ad essere una situazione di svantaggio ma le creature che abbiamo in campo sono numerose e forti quindi speriamo di potercela fare ma lui come potrete vedere ha anche delle carte molto forti che tipo la mia planar cleansing che distrugge tutte le carte dell'avversario quindi la situazione non è proprio chiara insomma anzi molte volte viene stravolto l'esito della partita in un batter d'occhio in queste due partite si vedrà parecchio adesso ripesca due carte come potete vedere in questo è assolutamente avvantaggiato da questi suoi incantesimi dal fatto di avere delle creature molto forti adesso credo che userò proprio armored ascension che è un incantesimo che non avevo trovato utile prima però in questo mazzo bianco bianco è molto utile perché prendo un più uno più uno per ogni pianura che controllo e guadagna un volare e le pianure che controllo sono tutte le carte terra che controllano in questo mazzo bianco bianco quindi questo diventa molto potente soprattutto quando si iniziano ad avere un considerevole numero di carte pianura quindi credo che lo giocherò su, esatto, su Rock's Faith Mender perché questo vuol dire che diventa un 7-11 con volare con Lifeling e che riceve il doppio dei punti attaccando cioè il doppio dei punti del Lifeling per la sua abilità tra l'altro non credo che scalino i due il tizio mi consiglia di attaccare con tutti e tre ed è quello che farò 7-3-10 e 5-15 e come potete vedere il raddoppio dei punti vita ci porta a un totale di 55 e meno a meno uno la prima volta sono rimasto molto deluso quando sconfiggi la prima forma di Garruk appare la seconda forma Garruk the World Slayer che devi battere consecutivamente ed è anche per questo che ho trovato molti problemi a batterlo perché non puoi provare fino a che batti il primo e poi provare fino a che batti il secondo devi avere una partita abbastanza buona da riuscire a battere tutte e due di seguito e hanno dei mazzi davvero molto forti il primo l'avete visto e non ha sfogato le sue carte più forti diciamo a parte quello Alone Wenger Beast che è davvero molto forte ma non ha giocato quel suo 6-6 che evoca un 3-3 ogni turno perché ci avrebbe dato dei grandi guai questa è un'altra carta che ho aggiunto in questo mazzo che è una carta di veloce utilizzo con life no non mi ricordo ha un'abilità che non mi ricordo più che è molto particolare ed interessante allora lui gioca già quella carta che appunto ci riporta in una situazione di parità giochiamo Alone Missionary per portarci leggermente in vantaggio ma anche questa partita sarà molto sul filo del rasoio ah guadagna un più uno più uno ah forse guadagna un più uno più uno ogni volta che noi riprendiamo vita mi pare di ricordare così e quindi questa sarà davvero cioè l'ho scelta appunto per combinarla con i i monaci rinoceronti là e con gli altri tipi di guadagni che abbiamo di vita insomma perché davvero potrebbe diventare qualcosa di davvero tosto noi adesso abbiamo attaccato con quello ma sapevamo appunto che lui ci avrebbe attaccato ma con un facile scambio 1-1 ci portiamo in una situazione di vantaggio con un 3-3 mentre lui non ha altre creature ora in campo a meno che non ne giochi un'altra ecco questa è un'altra carta molto terribile che utilizza che in pratica esilia un no manda nel cimitero credevo che esiliasse no manda nel cimitero una creatura che non controlla insomma a sua scelta ed è molto pericoloso insomma perché vedete quello là iniziava ad essere un 3-3 ci sentivamo in una situazione di vantaggio invece niente questa è un'altra carta che gli permette di trovare delle terre nel mazzo e di giocarle ecco come prima non abbiamo assolutamente terre mi pare che questa partita sia ancora più penalizzata dal fatto di non avere abbastanza terre lui giocherà tantissime terre mentre noi no ho delle carte per pescare terre più velocemente ma sono tutte verdi e in questo mazzo avevo provato anche con un verde bianco con quelle carte là ma non mi aveva assolutamente portato a una vittoria neanche nel primo delle due forme di Garruk di conseguenza ho optato per e qua giochiamo il grifone per cercare di difenderci insomma dalla sua creatura a convolare anche perché ha un'abilità anche quella creatura là non me la ricordo più non ho fatto caso prima adesso che l'ha giocata è Putrefine mi distrugge quello come potete vedere io cerco di difendermi un minimo ma lui mi distrugge le carte con abbastanza facilità diciamo ah eh c'era un when dark però non l'ho vista questa è un'altra carta che ho messo che è una carta creatura leggendaria che ha eh vigilance quindi vuol dire che può attaccare e difendere nello stesso turno e in più ogni volta che attacca o che blocca eh crea un token un soldato eh eh gatto ehm che ha un 1-1 potrebbe essere una buona combinazione con Phantom General che ho già in mano e credo che dopo giocherò il Phantom General adesso lui attacca di nuovo no non attacca eh ah perché probabilmente poi non potrebbe difendere effettivamente gli infliggerei dei danni eh così prende altre due carte terra per fortuna iniziano a venirci un po' più di carte terra e questo turno eh forse giocherò prima il Phantom General e poi i Triplicate Spirits cioè non nello stesso turno però lui mi consiglia Rocks Faith Mender eh e forse opterò per quello in modo per eh poter attaccare con il il nostro King of Allurex Cons e eh no perché quello ha Vigilance quindi comunque difende anche però è una buona carta difensiva quel Monaco e quindi buono lui decide di bloccarci il Cat Soldier che tra l'altro anche i Cat Soldier come dicevo prima prendono i bonus da Phantom General e questa è una buona cosa che non ne avevo pensato inizialmente ma che eh c'è stata assolutamente utile in questa partita eh più volte ma ti credo che giocheremo il Phantom General ah questa è un'altra carta che ho giocato cioè che ho inserito nel mazzo che fa guadagnare 8 vite che mi sembrava abbastanza eh utile insomma eh sì credo che giocherò il Phantom General e poi il Replicate Spirits nel turno dopo eh ecco qua e adesso attaccherò con lui e eh appunto il gatto sarà un 2-2 sto turno ho premuto sto attacca ah no perché stavo pensando di attaccare anche con l'altro se effettivamente non è una cattiva idea eh se effettivamente il gatto diventa un 2-2 ho eh la possibilità di difendermi se per caso lui dovesse giocare delle altre creature lui mi uccide il gatto ah quando entra nel campo puoi oh non mi ricordo più ah puoi distruggere una creatura nera non è buona mi ricordo più assolutamente adesso lui ci attacca ma tanto non avremmo potuto fermarlo perché non abbiamo volare infatti eh però abbiamo recuperato comunque della vita con l'attacco con Lifelink ecco questo noi ci sentivamo in una situazione abbastanza buona e lui distrugge tutte le creature che non controlla quindi buonanotte anche combinazione con i Triplicate Spirits ah ecco Angelic Edict la carta di cui parlavo prima adesso infatti giochiamo quello perché l'Angelic Edict non ci conviene bruciarcelo su una carta 3-3 e infatti guadagniamo 8 punti vita easy peasy almeno ci portiamo in una situazione di un pochettino di vantaggio visto che noi continueremo a subire dei danni nei prossimi turni non avendo possibilità di giocare altro a meno che non esca qualcosa di interessante infatti non ci esce niente di interessante e no non credo che utilizziamo Angelic Edict credo che passeremo il turno infatti ci chiede di nuovo se giocare Angelic Edict ma mi sembra assolutamente sprecato per una creatura del genere visto che ha delle creature davvero molto pericolose e mi conviene avercelo per quando giocherà quelle creature molto pericolose infatti credo che dopo lo utilizzeremo contro una delle creature più terribili che io abbia mai incontrato in questo gameplay di Magic se non la più terribile di tutte che non è il Garux Pack Leader che ha comunque un 4-4 come potete vedere è in una situazione di vantaggio questa carta permette di distruggere una creatura con forza almeno 4 e infatti credo che utilizzeremo questa e l'Elite Vanguard perché abbiamo mana per tutte e due e gli distruggeremo appunto quella carta che ha giocato adesso in modo da limitare i danni ricevuti tanto abbiamo un Angelic Edict che ci permette di distruggergli un'altra carta in seguito se si rendesse necessario diciamo poi l'Angelic Edict costa anche di più quindi non avremmo potuto giocarlo credo con l'altra carta poi per fortuna che non l'abbiamo giocato perché era davvero ah il quel ecco putrefai e ci distrugge quella è già la terza volta che lo fa quando quell'abilità del come si chiama di quel pipistrello è che quando entra in campo distrugge una creatura non nera però quando lui l'ha giocato e noi non avevamo creature quindi per fortuna non ci ha distrutto nessuna creatura ecco questa è la creatura più terribile che io abbia visto perché è un 6-6 e in più se per caso muore può rigenerarla al costo tipo di 2 mana una cosa del genere quindi è terribilissima per fortuna dopo posso allora io vorrei utilizzare un planner cleansing ma non riesco perché appunto non ho abbastanza mana faccio i triplicate spirits per cercare di pararmi per un po' essendo che hanno anche volare quindi posso utilizzarli per fermare il pipistrello ma la situazione inizia a diventare davvero pesante con quella creatura là in più ecco gioca questa carta in cui lui prende un più 2 più 2 e il mio meno 2 quindi muore e la situazione inizia a essere pericolosa per fortuna non ha travolgere quindi lui attacca io credo che sacrificherò i miei ah vedi quando fa danno a una creatura mette un più 1 più 1 su di lui quindi no forse non lo bloccheremo vedete il costo di 1 lo rigenera è una carta davvero parecchio pericolosa scelgo di prendere 8 danni per evitare di farlo diventare ancora più forte perché già un 8 8 sarebbe ancora più grave averlo più pericoloso poi torno a 6 6 però comunque è una questione molto adesso giochiamo una creatura e facciamo un planner cleansing credendo di poterlo fregare mentre invece lui utilizzerà appunto l'abilità di quello e girando appunto semplicemente una carta nera lo mantiene in campo noi perdiamo tutte le nostre creature e lui rimane in campo perché appunto con l'utilizzo di quello poi con il costo di una carta verde può farlo diventare di un altro colore e la questione è parecchio pesante in questo momento siamo in situazioni di assoluto svantaggio perché lui ha quella carta davvero troppo potente e ha questo vampiro giocato adesso con lifelink quindi può recuperare assolutamente lo svantaggio anzi adesso ci porta in una situazione di crisi perché siamo solo 5 punti di vita adesso credo che giocherò l'angelic edict per togliere di mezzo quello perché assolutamente è l'unico modo per cercare di sopravvivere esiliandolo perché altrimenti non avrei la possibilità appunto di fare niente adesso lui ci infliggerà due punti ferita e ne recupererà due portandoci a una situazione di 12-3 molto pericolosa dalla quale ci salveremo per una botta di fortuna diciamo che appunto abbiamo pescato sufficiente mana per giocare i triplicate spirits no non utilizziamo un planner cleansing perché non ha assolutamente senso contro quel vampirello e con i triplicate spirits abbiamo la possibilità di difenderci anche dal vampiro insomma adesso lui attaccherà col vampiro noi lo bloccheremo con un fantasma ma lui recupererà comunque vita lui sa che noi siamo obbligati a bloccarlo per non portarci in una situazione di troppo svantaggio però comunque noi li uccidiamo il vampiro ma lui recupererà due punti vita a questo punto siamo 14-3 lui gioca un altro vampiro al che per fortuna abbiamo avuto quei tre spiriti perché altrimenti con un 1-1 normale non avremmo potuto farci lui distrugge uno dei nostri spettri e quindi siamo in una situazione assolutamente critica a questo punto arriva il nostro Resolutor Changel per fortuna che ci riporta le vite a 20 se non ricordo male infatti ed è un 4-4 con volare che assolutamente ci porta in una situazione fantastica attacchiamo con lo spettro sperando che lui blocchi in modo da perdere quel vampiro invece non blocca per evitare di trovarsi in una situazione di svantaggio e riceve il danno insomma adesso attacca con quel vampiro noi glielo uccidiamo ma lui recupererà comunque due punti vita nonostante comunque a questo punto siamo in una situazione di vantaggio perché siamo comunque 20 a 15 ma abbiamo più creature in campo gioca ancora una volta un vampiro e a questo punto per fortuna che siamo riusciti a beccare un'altra creatura perché altrimenti la situazione sarebbe diventata un po' pericolosa credo che giocheremo il lone missionary anche perché credo che possiamo giocare tutte e due anche armored ascension adesso si e infatti la mettiamo sul lone missionary che diventa anche lui un mostro assurdo un 9 8 questa carta davvero è stata una carta ben scelta perché davvero avendo tante carte pianura alla fine della partita diventa davvero una situazione molto 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 di vantaggio infatti adesso riusciamo a portargli appunto 5 danni e lo portiamo di nuovo a 10 punti vita mentre noi siamo a 24 avendo giocato anche il lone missionary che ci dà altre vite e adesso utilizzeremo appunto per bloccare questo child of night forza child of light non child of night vi invito a seguire la serie se per caso non l'este ancora seguita di child of light che è davvero un giochino della ubisoft molto carino seraph of messis giochiamo a questo punto che arriva in un momento di stra grande vantaggio perché a questo punto attacchiamo con tutte le carte e il nostro seraph of messis che non ci ha mai deluso ci vedrà vincitori anche in questa epica ed enorme battaglia in cui distruggiamo garruk tra l'altro sempre con carte con volare anche sul finale ragazzi Bind a hedron into its magic will do the rest You did alright planeswalker I wasn't sure you could pull it off But you did it I still don't know why we are the way we are Or what the spark means for each of us But using our power to save a plane from destruction Isn't a bad start Ragazzi ce l'abbiamo fatta Oddio 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 Ce l'hai fatta Si salutate anche Marco I titoli di coda Ragazzi questa parte dell'audio è originale diciamo di quando l'ho giocata veramente la partita Al resto no L'ho tagliato Però è durante la partita assistito Marco 88 in chiamata vocale Di un ciao Marco Ciao ti sto ascoltando Finalmente l'hai sconfitto questo maledetto Si mannaggia ragazzi voi non ci crederete ma l'avrò provato almeno 40 volte con 7-8 mazzi diversi Tosto tosto E tra l'altro dibattutissimo fino alla fine cioè sia il primo che il secondo Adesso è concluso anche questo gameplay Adesso è concluso pure Magic Adesso è concluso pure Magic ma non ci posso credere Non ci posso credere Secondo me un degno gioco per sostituire questo magari restando sul gioco di carta è X Potremmo farci qualcosa Eh infatti ci stiamo pensando ragazzi questo gioco qua adesso lo guarderò Ne stavamo parlando proprio in diretta durante la partita Anche perché è in beta quindi non credo che tanti giocatori siano facciate in YouTube E ragazzi abbiamo chiuso con il Seraph of Messies Con il Seraph of Messies Ok non ha dato l'attacco finale ma era con il Seraph of Messies il nostro bestiale e unico salvatore Spettacolo spettacolo Sì lo so stanno passando tutti i credits di gente di cui nessuno fregherà niente E io stesso non guarderò e non saprò mai chi siano chi sono state queste persone però Besti avete fatto un boss finale mostruoso E io l'ho giocato con difficoltà facile Ragazzi se qualcuno di voi l'ha giocato con media o con difficile mi faccio sapere perché Porca miseria Cioè Oddio Cioè ci va una vita e mezza per riuscire a battere una cosa del genere Era immenso Immenso Mi è andata bene che ha bruciato tutte le sue carte Per eliminare le creature su creature scrause No davvero ho avuto un pacco di fortuna ragazzi Lo so ci sarà un sacco di gente sotto che nei commenti dirà Eh cosa ti gatti di aver vinto che ti avevo avuto un sacco di fortuna È vero ho avuto un sacco di fortuna Ho avuto un sacco di fortuna Però c'è da dire questo Max Per ora non abbiamo mai avuto delle persone che ci hanno detto quello che stai affermando tu Quindi siamo fortunati anche a quel punto Non abbiamo ancora degli hater Quindi secondo me troverai delle persone che ti diranno No in realtà ce ne ho di hater Quelli che hanno messo il non mi piace Ti ricordi che ho fatto la statua pure su un Minecraft Però non sono hater veri hai ragione Però un me non mi piace Cioè vabbè Capirai Ma sì dai siamo troppo piccini per essere odiati Per essere odiati Mica c'è uno Mica ci sono quelli che rompono le scatole commentando A parte che un commento è sempre un commento Ti aiuta sempre a spezzare il tuo video Nella ricerca Sì è vero Che sono qui Però Ah stai scaricando quello 60% Quanto pesa? Non so poco Eh? Non so che pesa poco Tra l'altro episodio vorrei solo Dirti di 35 minuti per ora No forse devo tagliare una prima parte Non mi ricordo più Ma perché stai continuando a parlare? Concludi il video Qui tanto sono caspite di titoli di coda Sì ma perché sono in una situazione troppo Di esaltazione assurda Che voglio godermi in questo momento Fino all'ultimo titolo di coda E dire Ah Ce l'ho fatta Ho finito Magic 2015 E adesso devi aspettare il 2016 Magic 2016 Eh quando uscirà No credo che sarà un titolo che porterò Ma magari farò una recensione anche per questa serie Ma è verità Hai visto che ho fatto un po' una recensione per tutte le serie Cosa? Sai che c'è anche l'espansione Eh ho sentito ma in realtà dovrei informarmi Non lo so se farò l'espansione Quindi non è finito Eh non è finito Non so se farò l'espansione anche perché ragazzi Vorrei anche cambiare un po' Non so Voi scrivetemi nei commenti qua sotto cosa ne pensate Se per caso ci siano vari commenti che chiedono l'espansione Proverò a fare l'espansione No ci penserò E nel senso ne parleremo In assoluto comunque Se mi date un vostro parere qua sotto È molto più probabile che io faccia l'espansione Perché di mio non sono molto propenso Perché vorrei dare spazio a qualche altro titolo A qualche altro stile di gioco Che non sia Sempre Magic insomma Per variare un po' di più e Dare la possibilità anche alle persone qui Che non sono interessate a Magic Di godersi qualche altro video Però appunto se c'è una buona parte di voi Che ha apprezzato queste serie Credo che ci sia Perché ha avuto delle buone visualizzazioni E vuole per caso vedere l'espansione Lo farò Sapete che come sempre Io sono un nabbo E come tale giocherò Però Però Boh Nel senso Spero di avervi divertito un po' Questo gioco mi ispira però Eh? Ci sono gli artefatti in questo gioco Non li ho mai visti Chigo Ah questo gioco deve essere Ancora più complicato di Magic Da quello che sto guardando Più complicato ancora di? Magic Forse Oh forse no Sarà interessante scoprirlo Sarà interessante scoprirlo Assolutamente Assolutamente Per ora ha lo stesso stile di gioco Del tipo Danno sul personaggio Di meta Tatico Sì è quello stesso tipo di giochi di carte Solitamente Credo che siano quasi finiti Special thanks Copyright La 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 Hasbro No 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 Museo Sounds Museo Cyrillic Georgia Motoya Iwata Fang Song Usui Office Eh no Qua c'è ancora un sacco di copyright Balle varie Tutte le stesse Quest'idra Quest'idra Vi ricordate quest'idra Quanto abbiamo penato per distruggerla Almeno racconta qualche cosa Il vampiro Cos'è Quanti bei ricordi ragazzi 20 minuti di gameplay 20 minuti di gameplay E 30 di Titoli di forza Cos'è sta a fare Cos'è questo demone adesso che è sorto dal nulla E' sorto un demone Sarà quello dell'espansione Non lo so Non mi sono informato bene sull'espansione Vabbè ragazzi E' già durato fin troppo Sono quasi 40 minuti di video Di cui credo 10 Di titoli di coda Noi ci vediamo prossimamente Vi invito a lasciare un mi piace Se siete arrivati fino a qua Sono sicuro che vi sia piaciuto il video Iscrivetevi E Seguitemi sulla pagina facebook Di cui il link è in descrizione Ciao a tutti Saluta anche tu Marco Saluti Ciao a tutti Sì Ciao ragazzi Ciao a tutti Tanti Sì Grazie a tutti